Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare della meiosi e riproduzione sessuale. La riproduzione fondata sulla mitosi è anche definita assessuata poiché il suo risultato sono due cellule figlie geneticamente identiche alla cellula madre. Questo tipo di riproduzione è riconducibile a una situazione di omogeneità temporale e tessutale. Nel momento in cui però avvengono dei cambiamenti ambientali le specie possono risultare incapaci all'adattamento. Questo è un sintomo di quanto la variabilità genetica sia importante per la sopravvivenza. Un contributo fondamentale alla variabilità genetica è dato dalla riproduzione sessuata dove si ha la fusione di due cellule provenienti da individui diversi. Le cellule che si fondono sono chiamate gameti e provengono da individui di sesso opposto. Il gamete maschile, lo spermatozoo, è una piccola cellula dotata di mobilità data da un flagello proteico posto in corrispondenza di un'estremità. Il gamete femminile invece, la cellula uovo, ha delle dimensioni molto maggiori rispetto allo spermatozoo ed è estremamente ricca di materiali energetici e di riserva. L'unione tra le due prende il nome di fecondazione e questa darà vita allo zigote, ovvero la primissima cellula di un nuovo individuo. Da esso, per mitosi, prenderà forma il nuovo organismo. Le cellule gametiche necessitano di un numero cromosomico dimezzato rispetto a quello delle cellule somatiche. Questo è possibile grazie a un processo chiamato meiosi che, partendo da cellule diploidi, ovvero un numero completo di cromosomi, porta alla genesi di cellule haploidi, cioè con la metà dei cromosomi. La meiosi è un processo che si compone di un'unica fase S, seguita da due divisioni nucleari consecutive. Per ogni cellula diploide che va incontro a meiosi avremo quindi quattro cellule gameti haploidi. Nel corso della meiosi si trovano due eventi importanti. Il primo è la riorganizzazione del genoma tra i cromosomi di ciascuna coppia di omologhi, in modo da avere nuove combinazioni di geni materni e paterni. Questo processo prende il nome di crossing over. Il secondo è un assortimento casuale nelle cellule figlie di cromosomi di origine materna e paterna. Inoltre è possibile affermare che esistono tre tipi di meiosi. La meiosi gametica, zigotica e intermedia. La meiosi consiste quindi in due divisioni nucleari successive, precedute da un'unica replicazione del genoma. Le fasi delle divisioni prendono gli stessi nomi di quelle ritrovate nelle mitosi, seguite però da un numero che indica a quale delle due divisioni appartiene ogni fase. La profase 1 è molto lunga e complessa. Segue la metafase 1, l'anafase 1 e la telofase 1. Quest'ultima è molto breve e i cromosomi possono rimanere spiralizzati fino alla seconda divisione meiotica, la quale è molto breve poiché non comprende l'intercinesi ed è molto simile ad una mitosi. Durante la prima divisione meiotica si verificano tre fondamentali eventi, ovvero il riconoscimento con conseguente appaiamento dei cromosomi omologhi, il crossing over e la segregazione degli omologhi, senza la separazione però dei cromatidi fratelli. La profase 1 è divisa in diversi stadi, leptotene, zigotene, pachitene, diplotene e diacinesi. Partendo dalla prima, durante la fase leptotene, i cromosomi vanno incontro a spiralizzazione. Questi sono disposti con i telomeri rivolti verso il polo della cellula e aderenti all'involucro nucleare. Nel frattempo gli omologhi cominciano ad appaiarsi a partire dalla porzione dei telomeri. Segue poi la fase zigotene, nella quale si completa e stabilizza l'appaiamento degli omologhi, detti anche tetradi, essendo ciascun omologo formato da due cromatidi, grazie alla formazione di una struttura proteica chiamata complesso sinaptinemale. Questo permane fino allo stadio successivo per poi sparire durante la pachitene. Il complesso sinaptinemale è un complesso nastriforme situato tra gli omologhi. Il suo ruolo è quello di stabilizzare l'unione dei cromosomi omologhi e di completare il crossing over. Dal leptotene fino alla metafase 1 i cromatidi fratelli di ciascun omologo sono uniti per tutta la loro lunghezza da delle molecole di coesina. Durante lo stadio del pachitene gli omologhi continuano ancora a spiralizzarsi. I telomeri vanno ad attaccarsi all'involucro nucleare e avviene il crossing over, ovvero un evento basato sullo scambio di materiale genetico tra proporzioni omologhe che si verifica tra due cromatidi appartenenti a cromosomi diversi di una coppia di omologhi. Durante questo evento quindi non si ha né perdita né acquisizione di materiale genetico poiché questo prevede solamente uno scambio. Il crossing over è un evento di fondamentale importanza per l'adattabilità e l'evoluzione della specie in quanto è in grado di aumentare la possibilità di adattamento alle condizioni ambientali e a livello generale la variabilità della specie stessa. Lo scambio degli alleli avviene in modo randomico ma tra la frequenza di scambio tra due geni e la loro distanza sul cromosoma esiste una relazione statistica. Infatti la loro distanza è direttamente proporzionale alla probabilità di essere scambiati. Questo scambio genetico avviene a seguito di una rottura nel sito di incrocio dei cromatidi non fratelli e continua con una nuova saldatura che genera nuovi cromatidi costituiti da una porzione di un cromatidio e una porzione dell'altro. Il sito di ricombinazione non è identificato in modo casuale ma è dipendente dalla presenza di una specifica proteina detta rad 5. La fase del pachitene è seguita dal diplotene. Qui gli omologhi appaiati iniziano a separarsi seguendo tutta la loro lunghezza. Questi rimangono uniti solo nel sito dell'avvenuto crossing over e sono in via di formazione delle strutture caratteristiche con diversi occhielli e i loro punti di contatto sono chiamati chiasmi. Per concludere la profase 1 abbiamo lo stadio della dia cinesi durante la quale l'evento della terminazione dei chiasmi fa sì che questi scorrano verso le estremità cromosomiche dove andranno a fondersi. Contemporaneamente l'involucro nucleare si dissolve e le coppie di omologhi si portano sul fuso dando inizio così alla metafase 1. Le coppie di omologhi si dispongono sulla piastra metafasica rimanendo attaccati a livello dei chiasmi che si localizzano all'equatore del fuso. I centromeri invece sono orientati verso i poli opposti. I due cinetocori, uno per ogni omologo, presentano lo stesso orientamento e vanno entrambi a congiungersi con i microtubuli dello stesso polo. L'orientamento verso un polo piuttosto che all'altro è completamente casuale. In successione durante la fase 1 vengono separati i cromati di fratelli tramite la degradazione delle coesine che li tenevano insieme, eccezione fatta per quelle presenti a livello del centromero. Anche i due omologhi vanno incontro a separazione e si dirigono verso poli opposti avendo ancora i cromatidi fratelli uniti. Entrano in telofase 1. Ciascun gruppo di omologhi è circondato da un involucro nucleare e avviene la citodieresi generando così due cellule figlie con corredo cromosomico aploide. Si conclude così la prima divisione meiotica e a seguito di una brevissima intercinesi ha inizio la seconda. La prima fase, anche se avviene in tempi molto ridotti, rimane quella della profase, stavolta profase 2, all'interno della quale i cromosomi della telofase 1 non si sono completamente despiralizzati e quindi già pronti per passare sul fuso. Nel frattempo l'involucro nucleare è nuovamente distrutto. Quando gli omologhi si dispongono all'equatore si entra in metafase 2. Ogni cromosoma prende contatto con i microtubuli del fuso bipolarmente e durante la fase 2, quando vengono rimosse le coesine del centromero, i due cromatidi si dispongono verso i poli opposti. In telofase ogni cromatidio è situato in un polo e di conseguenza la citodieresi finale porterà cellule con un numero haploide di cromosomi, ciascuno costituito da un unico cromatidio. Il processo di meiosi porta quindi alla formazione di 4 cellule haploidi, tutte geneticamente diverse tra loro e i cui cromosomi hanno un solo cromatidio. Detto questo abbiamo concluso questo capitolo riguardo la meiosi. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!